Per quanto riguarda la vicenda di Regione Lombardia, da parte nostra massima solidarietà al Presidente Maroni e nessun dubbio su quello che è il sistema sanitario lombardo, che resta un sistema di eccellenza e modello per tutta Italia. Ricordo che la sanità lombarda è l'unica in attivo, visto il contributo che riceve dalle altre regioni, perché i pazienti di altre regioni decidono e scelgono di andarsi a fare curare in Lombardia. Ho capito, io ricordo che però il connubio politica, ma la politica sanità è stato scosso da una nuova inchiesta, da un nuovo fatto e le accuse sono gravissime, corruzione, concussione. Io posso dire una cosa però, che Maroni, le delega alla sanità, io non conosco Mantovani e non mi permetto di dare giudizio sulla sua posizione perché non conosco le carte. Quello che è il dato politico però è che il Presidente Maroni, le delega alla sanità al Vice Presidente Mantovani, le ha tolte da qualche tempo e soprattutto che i fatti contestati sono fatti che riguardano non tanto l'attività da assessore alla sanità, ma più che altro il suo ruolo di senatore e di sindaco. Quando era sindaco? Questo per chiarezza. Questo per chiarezza. Va bene, insomma, io le chiedevo solo se temete o tremate. No. Ecco, no, la risposta è no. Andiamo però...